Dovrete praticamente, in coppia, trasportare un bicchiere, tenendolo con la fronte, con l'altro compagno di squadra, da qui alla caraffa. Chi raggiunge più millilitri nell'acqua vince. La prima squadra è composta da Emma Stoccolma e Nathalie Ghetta. Non so perché parlano la stessa lingua, magari si intendono. Nathalie, togli i didacchi! Ho fatto confusione, scusami. Allora, prendete un bicchiere rosso e andate fino alla caraffa rossa. Entro il tempo stabilito vediamo quanti bicchieri riuscirete a versare, speriamo, nella caraffa. Non c'è un altro gioco? No, non c'è un altro gioco, è rimasto questo. Siete pronte? Piano, 3, 2, 1, via il tempo! Perfetto! Vai, 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 proviamo un altro. Sono un po' veloci? Un po' più veloci. Avete capito? Vai, 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 piano, 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 piano. Sai che ci siete? No, peccato, 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 ancora, ancora, non c'è un altro gioco. Vai, un altro. No, mi fa tanto divertire. Un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Vai, 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 vai. No, ho capito, puoi siete un disastro. Ci dobbiamo coordinare. Coordinate, coordinate. Guardatevi negli occhi. Voglio l'intesa, l'intesa. Eh, brave, così, 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 così. State per fare il record. È il record! È il record! Dai, 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 abbiamo altri tre bicchieri, potete provare con altri tre bicchieri. Vogliamo cambiare che si deve riempire il pavimento. Dai, dai, eccolo. Questa è un molto meglio. Ciao, ciao, ciao. Ehi, André! Altri due tentativi. Forza, 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 forza! Concentriamoci, ok? Dai, dai, concentrate. Eh, ho capito! L'ultimo tentativo. Nathalie, mi raccomando. Si fa una foto. Si fa una foto. Bravissime, ragazze! Piano, piano, piano. Piano, resisti, Nathalie. Vai, attenta. Piano, sbagliatevi, stavolta. Un bicchiere! Un bicchiere! Vediamo se altri due riusciranno a fare peggio. Vorrei vedere Giovanni Esposito ed Herbert Ballerina. Oh, uteri, ho avuto la polmonite. Io non posso. Dai. Ho avuto la polmonite da poco. Ho avuto la fratelli. Ho la costa o la fatturata. No, c'ho il cocci, c'è fratturata. Ma poi è tutto bagnato. Ho capito, eh, tante altre. Se ci vogliamo ci facciamo male. Dai, per fortesia. Io c'ho la polmonite. Vai, che tu hai gli occhiali che ti aiutano. Vai. Sei credito. Dai! E fermati! Forza, forza! Ebbè, uno e ce ne andiamo a casa. Uno e ce ne andiamo a casa. No, no, che uno e ce ne andiamo a casa. Aspetta, aspetta! Bravi! Oh, ne basta un altro, eh? Adesso siamo in una situazione di pareccio. È certo. Dai, oi, che state facendo? Che state facendo? Che stiamo rifacillando? Dai! Ma li stiamo rifacillando? Dai, tre, due, uno, via, vai! Non mollare, non mollare, Giorgio, non mollare! Dai, l'ultimo, 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 l'ultimo! No, non mi voglio imbagliare. Ma che bravi! L'ultimo, l'ultimo, facciamo così. Uno sopra l'altro, pronti? Uno, due, tre! Stasera tutto è... Così, l'ultimo! Viaggio, una domanda per te. Qui, direzio, ragazzi. Se fondiamo le parole alfabeto e corpo, che cosa vi...